Episodio numero 8 di Anatomia della guida di Scrum. La nota finale. Alla fine della guida Scrum c'è una nota finale. Mi sembra inevitabile, a questo punto, parlare anche di questa parte, che probabilmente abbiamo letto in pochi. Come dicevo nel primo episodio, quando commentavo i paragrafi di apertura della guida Scrum, in questa nota finale non si fa che reiterare una serie di concetti molto semplici. Scrum è immutabile. Fare solo alcune parti di Scrum è possibile, ma il risultato non è Scrum. Scrum è un contenitore di processi, pratiche e tecniche che dobbiamo scegliere noi. Il mio commento finale, quindi, è che se Scrum vuole essere trattato come un contenitore, anziché perdere tempo a criticare o cambiare il contenitore, forse sarebbe meglio prestare attenzione a cosa abbiamo deciso di mettere dentro questo contenitore e, anche al contesto generale in cui abbiamo deciso di inserire questo contenitore. Se davvero pensiamo alla guida Scrum come a delle regole del gioco, ecco che cambiare le regole del gioco cambia il gioco stesso. Un concetto semplice, ma ancora non ben compreso. Se hai ascoltato tutti gli otto episodi che compongono questo piccolo podcast autoconclusivo, ti ringrazio. È stato un esperimento in brevità e di pubblicazione spartana che stavo rimandando da tanto tempo. La mia tendenza è quella di voler fare qualcosa di perfetto con il risultato di non fare mai niente. Lo so, la mia dizione è migliorabile, mi mangio le parole. Lo so, c'erano rumori in sottofondo. Lo so, avrei potuto espandere di più certi commenti. Così facendo però avrei rischiato per l'ennesima volta di non pubblicare nulla. So che tutto quello che ho condiviso è migliorabile, per cui accolgo molto bellintieri ogni commento e suggerimento che volessi condividere. Io sono Davide Tarasconi, sono un consulente freelance che negli ultimi anni ha aiutato un certo numero di team ad iniziare ad adottare Scrum oppure aggiustare il tiro dopo aver incontrato delle difficoltà con questo framework e, in altri casi, ho aiutato team e aziende ad abbandonare Scrum definitivamente. Puoi contattarmi cercando il mio nome, Davide Tarasconi, su LinkedIn, oppure scrivendo un email all'indirizzo davide.tarasconichiocciolagmail.com davide.tarasconichiocciolagmail.com. Spero di averti condiviso alcuni spunti utili per migliorare il modo in cui approcci Scrum e averti fatto venire la curiosità di leggere a tua volta in maniera critica la guida Scrum. Ti lascio, augurandoti buon lavoro. Ciao!